Ciao ragazzi e amici collezionisti e benvenuti nel mio canale YouTube. Mi chiamo Filippo, in arte EJC Italian Jersey Collector e sono il collezionista italiano più conosciuto sul web. Iscriviti al canale, qui parleremo sì di calcio, sì vi porterò in giro per gli stadi più belli d'Italia, ma soprattutto parleremo di maglie. Cercherò di spiegarvi in maniera chiara e precisa tutto quello che c'è da sapere dietro a questo fantastico mondo e hobby. Cercherò di rispondere alle vostre domande più frequenti, come iniziare a collezionare, quali maglie collezionare, quali sono i siti migliori dove acquistare maglie, come riconoscere una maglia originale da una felica. E poi parleremo delle novità delle maglie in uscita, faremo delle classifiche sulle maglie più belle di sempre, delle classifiche di questa stagione, curiosità sulle maglie, le maglie storiche, degli unboxing, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi se ti va iscriviti al canale e preparati ad appassionarti a questo meraviglioso hobby. Evviva le maglie!